di essere candidato come indipendente nella lista Italia dei Valori in tutte le circoscrizioni. È un onore da un lato perché si tratta di spiegare da un lato alle persone che incontro questo progetto, che cosa ho mai in mente, che cosa si pensa di fare, dall'altro quello di ascoltare, di percepire emozioni, pensazioni e devo dire che il risultato ormai è stata alla fine sostanzialmente, perché mancano due o tre giorni, è assolutamente entusiasmante per quanto mi riguarda, perché ho avuto la sensazione che avevo già da prima nel fare questo lavoro, nel lavoro che facevo prima, avevo girato il Paese a parlare di diritti, di legalità, di giustizia, c'è una parte del Paese importante e minorante.